Salve e bentrovati. I mercati vivono una nuova giornata positiva anche se non ai livelli di quella di ieri. Uno dei fattori più rilevanti viene indicato come quello relativo all'inflazione statunitense che a ottobre ha rallentato più delle attese. Va poi menzionato anche l'allentamento delle misure anti-covid in Cina, misura che ha portato effetti benefici anche ad alcuni titoli tra cui quelli legati al lusso. Al più 2,58 di ieri il Fuzzimib risponde come dicevamo con un guadagno più moderato che nello specifico è più 0,25%. Se analizziamo il grafico però vediamo come il nostro indice si sia sempre mosso in territorio positivo. La chiusura è di poco inferiore ai 24.500 punti. Il DAX fa meglio dato che riesce a superare il mezzo punto percentuale di risalita. Qui la chiusura non è troppo distante dai massimi di giornata. A Wall Street invece la situazione è piuttosto contrastata. Il Nasdaq per esempio guadagna anch'esso oltre mezzo punto percentuale, il Dow Jones al contrario sta facendo segnare un meno 0,77. Scatta in avanti a piazza affari Saipen in scia al rialzo del greggio in recupero dei minimi di ottobre. Il titolo in rally supera quota un euro riconquistando i livelli di agosto e mettendo a segno un ottimo più 7,81%. Dopo la brillante seduta di ieri Azimut si conferma in ottima forma aggiudicandosi ulteriori 4 punti di progresso. Ottimo il risultato di Monclerc che in scia al settore si avvicina al più 4 riconquistando i livelli di inizio aprile. Monclerc che ricordiamo è un titolo legato al lusso e quindi ci riconduciamo al discorso delle riaperture in Cina. Seguono Amplifon a più 3,20 e CNH Industrial a più 2,72. In controtendenza c'è Telecom che affonda intorno ai 3,5 punti circa percentuali bocciato tra l'altro dagli analisti di JP Morgan. Secondo l'amministratore delegato Labriola per la creazione della rete unica l'OPA è solo un'ipotesi teorica. Occorre invece l'acquisizione di Netco da parte di CDP. Giù alcune utilities appaiate sotto almeno 3. È il caso di Terna e di Snam mentre invece Italgas sfiora il meno 2%. Si indebolisce rispetto al rialzo di ieri Prismian. Buone notizie anche dal fronte del Forex dove l'euro si mantiene forte sul biglietto verde consolidandosi sopra alla parità. Il cross euro dollaro, il cambio euro dollaro registra un rialzo superiore al più 1% e attualmente vale 1,03. Stanno viaggiando invece su fronti opposti ma a simile distanza euro sterlina attualmente a più 0,49% ed euro yen che rispetto a ieri sera è a meno 0,58%. Ed ora qualche spunto sui mercati statunitensi da parte di Filippo Giannini. Salve a tutti per le interviste di Traderlink, ospite di oggi Filippo Giannini di tradingfacile.eu. Daremo con lui uno sguardo ai mercati statunitensi per vedere le prossime occasioni che si presenteranno. Lascia a te le considerazioni. Sì innanzitutto ciao Rossana e bentrovata. Sì giornata di ieri caratterizzata da un forte rally su tutti i principali listini di Wall Street, Nasdaq in testa e questo per via del dato sull'inflazione migliore dell'attesa nel senso l'inflazione più bassa rispetto alle stimme del mese precedente e quindi questo ha portato una ventata di ottimismo sui mercati azionari. In particolar modo ora si sconta una prossima stretta più leggera, chiamiamola così, da parte della Fed e quindi questo ha portato ad una ventata di acquisiti sull'azionario. Quello che è interessante sottolineare è che, contrariamente a quello che abbiamo visto nel corso dell'ultimo mese, dove comunque i settori tradizionali, quindi gli indici, chiedo scusa, aziende del Dow Jones, hanno performato meglio rispetto ai tecnologici, da ieri quello che osserviamo è una forza relativa nel breve maggiore per quanto riguarda i tecnologici e quindi il Nasdaq. Nasdaq è arrivato a scambiare su livelli veramente significativi perché vediamo qui come per ora il mercato ha fatto un triplo massimo a quota 11.750 punti e quindi è chiaro che se il mercato riuscisse a rompere al rialzo questa importante soglia di resistenza, per di più questo livello corrisponde al ritracciamento del 50% di Fibonacci calcolato sull'ultimo importante uptrend a partire insomma dal dal marzo, dai minimi di marzo 2020, è chiaro che si aprirebbero le porte secondo me per dei rialzi maggiormente significativi, segnaliamo tuttavia il primo obiettivo in caso di breakout al rialzo, ovvero quest'area di resistenza posizionata tra 12.250 e 12.400 punti. In ogni caso è probabile che il mercato oggi incontri delle difficoltà proprio al test di tale livello e quindi potrebbe esserci diciamo uno storno e comunque secondo me acquisti sui livelli attuali non offrono un rapporto tra rischio e beneficio particolarmente elevato meglio secondo me aspettare uno storno insomma qualora il mercato ce ne desse occasione, segnalo area 11.300 punti come un'area di supporto secondo me interessante, siamo più o meno sui livelli mediani di questa barra ad ampio range di ieri, qui secondo me il mercato invece offrirà una eh buona occasione di acquisto con un rapporto appunto tra rischio e beneficio molto più eh ragionevole. Perfetto Filippo io ti ringrazio per tutte le informazioni e per la panoramica con te rimando l'appuntamento alla prossima volta. Grazie a te Rossana, arrivederci a tutti. Ringrazio Filippo e Rossana per il contributo e con questo chiudiamo l'appuntamento di oggi. Vi auguro un buon fine settimana, ci ritroveremo lunedì con nuovi aggiornamenti. Arrivederci.